Scusate, vi spiego solo questo passaggio. I ragazzi hanno preparato questi ritratti di Iole con una riflessione che poi vi invitiamo a leggere. Adesso apporranno queste immagini e i volti di Iole sull'albero di cui citavo prima, proprio perché nei cent'anni della sua nascita, come amministrazione assieme a Lampia, abbiamo deciso di piantare un albero in suo onore. Per cui adesso ragazzi, se volete andare con Tamara, facciamo anche questo.